Io sono molto tranquillo, non c'è nulla di nuovo, siamo convinti delle nostre ragioni, faremo un ottimo ricorso, sono assolutamente sereno, motivato, so che abbiamo fatto uno straordinario lavoro, la Corte dei Conti considera un arco temporale molto ampio, noi stiamo in piano riequilibrio da solo un anno, da solo due anni governiamo, in questi due anni abbiamo fatto qualcosa che anche per me che sono ottimista stentavo a crederci che ci potevamo riuscire dalla ristrutturazione delle partecipate, dall'abbattimento della lentezza nei pagamenti, agli investimenti che crescono, al turismo, a un'economia che si è rimessa in moto, alla riduzione delle partecipate, l'abbattimento delle dirigenze, l'eliminazione delle consulenze esterne, abbiamo messo in atto una rivoluzione, la Corte dei Conti fa una sua valutazione e quindi interviene in un certo percorso, il percorso continua, andiamo avanti, siamo ottimisti, siamo ottimisti sia nel ricorso, abbiamo grande fiducia nella sezione centrale di autonomia, abbiamo anche fiducia in un percorso che stiamo portando avanti dal punto di vista nazionale con il Governo, quindi sono molto sereno e le motivazioni non hanno per nulla scalfito la mia serenità, anzi lo sono ancora di più dopo averle lette. Noi stiamo seguendo con grande attenzione quello che accade e il motivo per cui adesso forse si può comprendere bene come il rapporto tra il Calcio Napoli e il Comune sia un rapporto che non si è riuscito a chiudere in tempi rapidi, perché quando c'è un contenzioso, c'è un contenzioso che si deve superare, noi lo vogliamo superare con una transazione, ma la transazione deve tener conto di una serie di questioni tra cui alcune sono quelle che sono state sollevate anche in queste ore, quindi io credo che alla fine si raggiungerà il risultato che abbiamo sempre ipotizzato, stiamo facendo un ottimo lavoro e dobbiamo sempre contemperare una serie di esigenze che sono da un lato quello di mantenere rapporti ottimi con la società Calcio Napoli e nello stesso tempo ovviamente preservare l'interesse generale e l'interesse pubblico, quindi io penso che la direzione che abbiamo intrapreso è quella giusta e il provvedimento di ieri non va assolutamente in controtendenza rispetto a tutto quello che finora ha messo in campo il Comune di Napoli. Questa è un'azione che la Procura regionale della Corte dei Conti fa nei confronti del Calcio Napoli, ovviamente conosciamo la vicenda, sia ben chiaro, e non è neutra rispetto a quello che stiamo facendo, la guardiamo con grande attenzione, andiamo avanti per la nostra strada, noi abbiamo sempre cercato di contemperare questa doppia esigenza, mantenere un rapporto ottimo con il Calcio Napoli e cercare di raggiungere l'obiettivo della transizione e della realizzazione del nuovo Stato e della nuova Convenzione e sono sicuro che lo raggiungeremo, nello stesso tempo però non possiamo mai cedere di fronte a quelle che sono poi gli interessi pubblici regati a somme erariali che debbano essere fatte nei confronti del Comune di Napoli. Noi siamo molto vicini ai tassisti che vogliono lavorare e cercheremo di perseguire al meglio tutti gli obiettivi fattibili alla nostra città. Il tassista ha la stessa importanza dell'operatore dell'ATN o della metropolitana, noi puntiamo tantissimo il servizio pubblico, li voglio rasserenare, quindi che c'è un'amministrazione che pensa a loro e quindi andiamo in questa direzione. Come ho più volte rasserenato i dipendenti di Bagnoli Futura che non saranno licenziati, saranno utilizzati per il rilancio di Bagnoli e per altri servizi essenziali della nostra città e altre partecipate, devono stare tranquilli. La città è come il Paese, vivono in un momento difficile, nei momenti difficili bisogna essere vigili, non bisogna perdersi d'animo, rimboccarsi le maniche, avere fiducia in chi rappresenta le istituzioni in questo momento a Napoli con tanto coraggio e tanta determinazione. Avremmo potuto mollare tante volte, quindi non molliamo e soprattutto non molliamo adesso che stiamo cambiando la città, ma stiamo cambiando radicalmente, strutturalmente, stiamo incidendo nei gangli che l'hanno massacrata nel corso degli altri anni, quindi siamo molto fiduciosi, i dipendenti e i lavoratori devono sapere che con mille difficoltà c'è stato un sindaco che fino a ora non ha consentito operazioni di licenziamento, il massacro sociale, la privatizzazione dei servizi essenziali, quindi ci devono anzi aiutare, ci dobbiamo aiutare reciprocamente, l'amministrazione deve avere il sostegno alle sue battaglie e noi dobbiamo stare vicino ai lavoratori, così come sto vicino ai lavoratori che ho incontrato ieri, così rassicuriamo anche loro delle cooperative sociali e dell'assistenza domiciliare, stiamo facendo un grande lavoro per cercare di evitare che anche in questo caso la crisi venga pagata dai cittadini più deboli che sono appunto i disabili e quelli che meritano l'assistenza e dai lavoratori che stanno al loro fianco, quindi faremo di tutto anche quando non c'è nostra competenza perché se non ci arrivano i soldi alla regione o se ci sono i tagli o se non ci approvano i piani di riequilibrio, insomma noi veramente dobbiamo fare i miracoli e noi cercheremo di attrezzarci non a fare i miracoli perché non siamo in grado di fare, ma a mettere in campo veramente ogni iniziativa perché sappiamo la disperazione e la giustizia che sta in alcune di queste battaglie che abbiamo citato, quindi dobbiamo essere tutti uniti e mettiamo da parte le bombe carte.